A Giulianova cresce il dibattito sul nuovo piano spiaggia che dovrebbe essere approvato nel prossimo Consiglio Comunale in programma lunedì 3 aprile. Al centro delle polemiche, oltre ai tagli delle spiagge che non piacciono assolutamente a balneatori e sindacati, ora arriva anche la protesta di Unica Beach, l'associazione che ha la concessione dedicata all'accesso degli animali da compagnia nella zona nord e che denuncia l'assenza della propria concessione nelle tavole e nelle tabelle del nuovo piano demaniale marittimo. Al contrario di tutte le altre, identificate con numero del titolo concessorio. La concessione che è stata prorogata dalla sentenza del TAR, che ormai io porto avanti da sei anni, quindi è una concessione presente da sei anni, sono riportate tutte le concessioni con tutti i numeri di titoli concessori tranne la mia. Quindi è assente, io ho visualizzato queste cose, ho chiesto un incontro con l'assessore Aldemanio e l'ufficio tecnico per poter chiarire questa cosa e per farla inserire. Cioè io pretendo che venga inserita al pari di tutte le altre concessioni, tutte presenti, quindi tutte identificate. E per legge io devo essere presente e identificata perché la mia è una concessione al pari di tutte le altre e questo è stato stabilito proprio dalla sentenza del TAR. Secondo la Branella ci sarebbe una mancanza di volontà di confronto da parte del Comune e quindi annuncia di essere pronta a qualsiasi azione necessaria, affinché vengano rispettate le leggi e la regolarità del piano spiaggia. Inoltre un'altra cosa che ho evidenziato è il fatto che è completamente assente l'ipotesi di fare una spiaggia per i cani. La spiaggia per i cani ricordo che è prevista per legge regionale, in più Giulianova è dotata di un regolamento comunale che prevede la presenza di una spiaggia per i cani ed è assurdo che in un piano spiaggia non venga né identificata, che tra l'altro c'è già quindi l'identificazione sarebbe anche superflua, ma non viene trattata minimamente la presenza di una spiaggia per i cani. Va specificato però che il piano spiaggia per questo caso specifico entrerà in vigore dall'estate 2024. Questo perché nel 2021 c'è stata una sentenza del TAR che ha prorogato di tre anni la gestione a Unica Beach. Sarebbe un abuso dati d'ufficio se venisse tolta quest'anno, io ho già le prenotazioni, tantissime sono le prenotazioni che tra l'altro vengono dagli albergatori di Giulianova, cioè albergatori che accettano le persone con il cane e che usufruiscono, a cui fanno usufruire della spiaggia per i cani. Quindi sono prenotazioni già date in albergo e già utilizzate, già attivate per la spiaggia per i cani.